Tu che cosa ti aspetti? Persone d'ogni genere affollano la stazione. Impiegati, teppaglia che deruba i turisti, studenti dalle facce vaghe, spacciatori incalliti. Ciascuno conta i giorni ansioso di sbarcare in una illusoria felicità fino al prossimo giorno, quando ritenterà la felicità. E' la febbre dei nostri tempi, commentò mio fratello. E' la febbre dell'essere nella condizione umana, dissi io. Mio fratello corrugò la fronte. Che vuoi dire? Voglio dire che questa febbre è tipica della condizione umana. Tu che cosa ti aspetti dalla condizione umana? Non mi farei mai una domanda del genere. Perché? Perché è una domanda idiota, come quella di chi vuole capire perché vive. Vive e basta. E se invece tua moglie è morta di parto perché viveva nella condizione umana? Tu non hai mai sentito il bisogno di ricercarne il perché. Io sento solo il bisogno di andare alla ricerca della gente, perché sono un fotografo e voglio che alla posterità rimanga una testimonianza di ciò che ho vissuto. Mio fratello si interruppe. Ti sembrerà strano, ma in un mondo in cui tutti vogliono fare i soldi, io non voglio fare altro che scattare fotografie. E ti sei mai chiesto perché non sei interessato a fare soldi e vuoi scattare solo fotografie? Ma che domande fai, sbottò mio fratello. Trasse di tasca il telefonino per interrompere l'incontro. Tu vuoi scattare solo fotografie perché sei avanti nelle incarnazioni umane e inizi ad avere delle intuizioni artistiche. Ti basta? Mio fratello mi scoccò un'occhiata di fastidio. Non mi basta. Mi basterebbe che la piantassi con le tue marce e idee sulla vita. Vedi, continuai imperterrito. Ogni uomo è un'antenna che ad un certo punto della sua evoluzione capta le forme pensiero che provengono dai piani superiori. Tu hai captato, anche se ne sei ancora inconsapevole, la forma pensiero della fotografia. Ah, vabbè, disse mio fratello.